Una sconfitta arrivata all'ultimo minuto, però alla fine avete disputato una buona gara. Sì, io penso di sì, è stata una partita decisa da un episodio finale. Noi abbiamo avuto tre nitide occasioni per far gol e non siamo riusciti a far gol. Quindi io penso che abbiamo poco da improverarci perché c'è stato il massimo impegno e poi è stato un episodio finale che ci ha condannato. Sì, è stata una partita difficile, loro dietro erano molto bravi. Io ce l'ho messa tutta come tutte le partite, poi ci può stare una partita in cui sei un po' più in difficoltà e una in cui vai più forte. L'importante è dare il massimo sempre. Ecco, due sconfitte consecutive, probabilmente lo ripetiamo, la Fidelis in queste due gare avrebbe meritato qualcosa in più. Sabato arriva la Rupa Castelli, bisogna ripartire. Sì, assolutamente, con lo stesso spirito che abbiamo avuto in queste due partite. Io penso che alla lunga, quando giochi così e dai il massimo, poi i risultati arrivano.